Le questioni riguardanti la sanità devono appartenere ad un'unica cabina di regia di nome Erpinia. I sindaci fanno rete in difesa dei presidi ospedalieri erpini di Ariano, Solofra, Monteforte, Sant'Angelo dei Lombardi e Bisaccia, lontano da ogni logica di Campanile. Ad esempio nel nostro caso l'ospedale d'Ariano, che poi è un presidio ospedaliero di un vasto comprensorio, da DEA di primo livello di fatto è stato declassato a pronto soccorso. E noi questo non lo possiamo accettare, non possiamo assolutamente tollerare che ci sia questa disattenzione. Noi dobbiamo parlare di sanità in senso lato, in senso generale, in senso sintetico, cioè non di Bisaccia o di Sant'Angelo, ma di tutti questi quattro presidi. Che significa? Significa che io senz'altro sarò pronto a sostenere Ariano, ci mancherebbe, a Sant'Angelo dei Lombardi ci mancherebbe, a Solofra ci mancherebbe. Però nello stesso tempo chi è di Solofra, chi è di Sant'Angelo, deve sostenere nello stesso modo praticamente Bisaccia. Tiene banco intanto il caso Solofra, sul quale il sindaco non intende concedere sconti. La provincia di Avellino ha un pronto soccorso che è quello di Solofra e l'azienda ospedaliera ha deciso di sopprimerlo in maniera non legittima. Abbiamo un'interruzione di pubblico servizio in questo momento, quindi è un tema che la provincia di Avellino deve affrontare. Perché privarsi di un presidio di pronto soccorso?